Buongiorno bambini, ben ritrovati. Eccoci qui per la nostra lettura. Cominciamo l'anno alla grande con una lettura che sviluppa la nostra fantasia. Ecco qua, La sedia blu, che sembra un libro normalissimo. Vediamo un po' cosa ci racconta. Un giorno Bruscolo e Botolo passeggiavano nel deserto. Eccoli qua, Bruscolo e Botolo. Non c'è molta gente, disse Bruscolo. È un vero deserto, borbottò Botolo, che amava la precisione. Oh, guarda, raggiunge qualcosa di nuovo, annunciò Bruscolo, indicando una macchia blu, in lontananza. Quando Bruscolo e Botolo si avvicinarono, scoprirono una sedia. Una sedia? È proprio una sedia, disse Bruscolo. È una sedia blu, precisò Botolo. Eccola lì, la sedia blu. E subito la fece diventare un rifugio. Mi piacciono molto le sedie, dichiarò. Ci si può nascondere sotto. Ecco. È molto semplice, affermò Bruscolo. Una sedia è qualcosa di magico. Si può trasformare in una slitta, in un camion dei pompieri, in un'ambulanza, in un automobile, in un elicottero, in un aereo, in qualsiasi cosa si muova o voli. Eccola qua. E anche in qualsiasi cosa galleggi. Allora attenzione agli squali che ci circondano, aggiunse Botolo, che si stava appassionando a questo gioco. E non è tutto, aggiunse Bruscolo. In poche mosse diventa una scrivania o il banco di un negozio. Non c'è niente di meglio per giocare al mercato. Sì, approva Botolo, una sedia è proprio magica. È anche molto pratica. Se ci sali sopra diventi alto, come il più alto dei tuoi amici. Guardate qui, sono alti uguali. e puoi anche usarla per difenderti. Per difenderti dagli animali feroci. Non c'è niente di meglio che impedire che una belva mangi il domatore. Lo si vede in tutti i circhi. Ecco qua. E nei circhi gli acrobati e i giocoglieri la usano per eseguire numeri formidabili, come questo. Bruscolo non volle essere da meno. Tocca a me, tocca a me, dimentichi gli equilibristi, gridò montando sulla sedia. Non lontano da lì, un camelide, e non è raro incontrarne uno nel deserto, guardava con severità gli esercizi dei due amici. Si avvicinò in silenzio e improvvisamente strillò. Ma si può sapere che cosa state combinando? Dove credete di essere? Al circo? Ecco il cammello o camelide. Boom, patatrac, fine del gioco. Ma che cos'è? Una sedia. È una sedia ed è fatta per sedersi, dice il cammello. E si sedette sulla sedia, deciso a non alzarsi più. Andiamocene, disse Bruscolo all'amico. Questo cammello non ha nessuna fantasia. Oltretutto non è neanche un cammello, un dromedario. Ha una gobba sola, aggiunse Botolo, che amava la precisione. Ed ecco che vanno via, hanno finito il loro gioco. Questo è un libro bellissimo, che fa sorridere, che parla di due amici che giocano insieme con qualcosa di magico. E allora io vi invito a prendere anche voi qualche cosa di magico. Sicuramente avrete una sedia in casa. Ma vi suggerisco di provare anche con qualcosa di diverso. Per esempio, uno scatolone. Questo è uno scatolone aperto, che può essere piegato, oppure diventa una scatola col fondo e potete entrarci dentro e fare tantissime cose. Potete anche usare i pennarelli e farlo diventare tutto ciò che volete. Ecco, uno scatolone è magico, proprio come la sedia di questi due amici. Quindi vi invito a mandarci anche delle foto dei giochi che riuscite a fare con lo scatolone o con la sedia. Grazie, bambini. Andate avanti a leggere le storie che infiammano la fantasia e ci vediamo al prossimo mese.